Ripartiti i lavori del Consiglio Comunale dei Grandi dopo le elezioni, anche un'altra assemblea si è riunita a Corbetta, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, una tradizione in città portata avanti per il suo valore didattico e formativo dei più piccoli. Da oltre vent'anni ormai a Corbetta c'è questo Consiglio Comunale dei Ragazzi, ovvero un Consiglio Comunale dove i ragazzi delle scuole medie partecipano, eletti dalla loro classe e vengono per proporre le loro iniziative, i loro progetti per Corbetta. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organo come per il Consiglio Comunale dei Grandi e vuole essere uno strumento con il quale i ragazzi possano proporre e portare le idee e le proposte che all'interno della scuola con i loro compagni hanno da fare ai grandi, all'amministrazione piuttosto che alle associazioni del territorio. Uno dei progetti in cui l'amministrazione è creato fin dal primo giorno che ha coltivato con attenzione e cura il nostro compito, spiegano Chiara Lavazza ed Elisa Baghin, è quello di ascoltare e lasciare spazio ai giovani per costruire insieme la città del domani, capace di rappresentare e rispondere ai bisogni delle ragazze e dei ragazzi.